Sì, e questo è il messaggero che dice appunto Obama è missione nella Roma Con Obama 200 agenti e un assaggiatore Dato che è un tema che... Fotografie che ci mostrano appunto le impianti Gli impianti di anca e di ginocchio Abbiamo con noi Livi Azzariti Consistenti per la nostra sanità Allora tra poco conosceremo anche i materiali di queste nuove protesi Intanto andiamo dal professor Zanasi Per capire e mettere in chiaro questa situazione Quindi si mettono sempre prima le protesi Si cambiano durante l'esistenza I materiali sono sempre più nuovi Però comunque c'è un costo anche in questo Come mai si anticipa l'età? Se così le soluzioni le vediamo Le tocchiamo con mano Andiamo verso l'operatoria dietro di noi, giusto? Come deve essere? Beh, è una decina d'anni E la scuola americana ci ha insegnato questo operatorio Grazie professor Zanasi Anche della dolce vita diciamo invernale Si sposta là Grazie a tutti